e signore intanto io non pensavo stasera di aver chiamato la reincarnazione di Lucio Battisti sono felice perché questo gruppo ci ha fatto godere direttamente da Siracusa il canto libero il canto libero, grazie ragazzi ci avete fatto sognare, grazie per la prima volta una confusione al di là dei numeri che pensavamo stasera abbiamo fatto proprio i record quindi la prima serata Time's Coffee targata record record e al solito lo senti che è per un uore no? un'altra cosa c'è qualcuno che mi guarda male, io non so chi è perché è mezzanotte e un quarto è mezzanotte e un quarto non lo dico quello che sto pensando però ci sono anche i miei genitori, non posso dire tante cose voglio dire soltanto una cosa purtroppo non riesco a farli fermare continuiamo fino ad altro po' con il tributo a Lucio Battisti e scusate a tutti si stiamo esagerando appena arrivano li facciamo staccare grazie, grazie grazie bravo grazie 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 grazie